ecco qui presentiamo un piccolo sogno l'idea di fare anche due bollicine di fare uno spumante nella zona quindi è partita questo mio piccolo sogno partendo logicamente da un pino nero da uno chardonnay eventualmente è un'idea quindi ancora un sogno ecco da realizzare da scoprire ma portare nel bicchiere uno spumante creato anche nelle nostre nelle zone quindi un metodo classico in questo caso presento questo pino chardonnay lavorato diciamo nel metodo classico grazie